Dottor Sangiuliano, come sta? Sto esaurito. Beh, per il caso boccia, immagino. No, assolutamente no. E che è successo allora? Questo mi pesa doverlo raccontare, perché è una vicenda che attiene alla mia sfera privata. Immagino si sia preparato un discorso, possiamo vederlo? Ma io dovrei averlo qua, ecco. Lei può vedere, no? Posso leggerlo a voce alta? Certamente. Cari amici di Propaganda Live, caro Maccox... Che è una persona eccezionale. E caro Diego Bianchi... Che è per me la persona più importante della mia vita. Ho fatto tutto questo casino per voi. Sono anni che provo ad iscrivermi come pubblico per Propaganda Live senza mai un riscontro positivo. Mi scusi, ma quante volte si è provato a iscrivere come pubblico? Credo quattro, forse cinque volte, non di più. Credo di peritarmi questo posto. Cosa posso fare di più? Vi prego ditemelo. Lo dico. Sono disponibile a qualsiasi cosa. No, mi scusi, ma lei vuole fare il pubblico o vuole fare il comico sul palco? Non ho capito... Qualsiasi cosa. Ce l'ha un curriculum? Dovrei averlo qua, lo cerco un attimino. Ah, eccolo qui. Guardi, le faremo sapere. Tanto iniziamo venerdì. Io sono disponibile. Certo, grazie. Le faremo sapere. Un minuto dopo che lei me lo chiede. Grazie. Grazie.